Non finisco più di ridere, ve lo dico, perché sono arrivati qui a Radio Bruno, Neck e Renga, ciao! Eccoci, ciao a tutti! Ma come lo finisce più di lui? Eh sì, perché siete grandi amici e siete veramente un duo comico, pieno di complicità. Sì, stiamo lavorando anche su quello, adesso oggi facciamo una prova sul palco. A questo saremo o canteremo? Il prossimo anno saremo a fare un monologo. Che in realtà voi potreste presentarlo, cantarlo? Cioè, ormai siete artisti... E fare concorrenti anche, cioè tutto. E vincerlo! Tutto in una volta! Sì, potremmo, nel senso che, vabbè, insomma, un po' di esperienza ce l'abbiamo. Qualche volta ci siamo venuti qua, abbiamo osservato, abbiamo visto, come siamo solo passati. Questa volta... Abbiamo vissuto tanto e intensamente il festival. È intensamente, però, a livello di emozione, questa edizione com'è? Guarda, prima di tutto per noi è un debutto, perché siamo insieme per la prima volta, quindi in realtà l'atmosfera è quella che vedi, quindi siamo molto rilassati, abbiamo voglia, sì, di salire su quel palco e cantare questa canzone bellissima, per noi, scritta per noi e per le persone che... Per voi. Per voi, esatto. e quindi siamo sereni, rilassati, nel senso che, ripeto, l'esperienza aiuta, il fatto di essere in due, ancora di più, quindi stiamo molto bene. Ma, dicevo con lui oggi, in tutti i modi, al di là dell'atmosfera che viviamo noi, che per fortuna è un'atmosfera molto leggera, solare, vediamo intorno un grande... forse non avevo mai visto io una... tanta intensità nell'aria, come in questo 74esimo festival. È vero, grande attenzione, persone di tutte le generazioni, una Sanremo strapiena e proprio questa... vuol dire che siamo vecchi? No, 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 noi siamo coetanei, ve lo volevo dire... Ve l'avevo detto io che avrebbero insieme... Noi siamo coetanei, quindi, che devo dire? Allora siamo giovani. Ah, sei giovani, allora... Nella serata di venerdì, allora, aspettate, Filippo ha invitato Francesco... Io sono ospite di Filippo. E che succederà? Guarda, in realtà, sì, facciamo quello che poi abbiamo fatto anche quest'estate, alla fine, perché la cosa bella di quello che abbiamo fatto da un anno a questa parte è quella di mischiare i repertori. Quindi il segreto è proprio quello delle due vocalità appoggiate ognuno nel canto dell'altro. E questo, secondo me, è un bel gancio per reinterpretare le canzoni e per anche, come dire, far ascoltare al pubblico qualcosa di nuovo e molto divertente. Tra le altre cose, il repertorio che anche qui a Sanremo è nato, perché sono la maggior parte dei pezzi che presentiamo. Sì, non dobbiamo spoilerare niente, però vi ve l'ho detto che purtroppo ho avuto questo tracollo ultimamente. Non mi ricordo più se posso spoilerare o no. Se devo dire o non devo dire. Ma vi siete rivisti nelle esibizioni Sanremesi degli anni passati? Eh beh, no, ci siamo visti, ogni tanto sì. E che pensate di voi stessi? Io penso, come ero magro. Io invece percepivo la tensione sul palco. Eh sì. No, io quello devo dire la verità. Eccezione fatta del festival del 2015, quello in cui ho presentato Fatti Avanti Amore. Fatti Avanti Amore. Che lì, sai, la musica è anche magia, è anche qualcosa di inspiegabile. E lì ha girato tutto in un certo... Io invece gli facevo notare, tutta la volta che lo vedo, quanto fosse meglio adesso di quando era piccolino. Ah, vabbè, sì. Con i cappellini tutti la casa. Io apprezzo questo. È molto più figo adesso lui. Io no. No, cosa dici? Io ero più figo qui. Sembra che per te il tempo non passi. Sì, sì. Sì, stai in congelatore. Allora, scusate, manca poco all'inizio della prima serata, vi dovete scongelare per andare sul palco. Andiamo a fare questa criogenesi, l'abbiamo pronotato prima giù nella spa. Se tu vai fuori. Noi dormiamo, sì, come me, siamo... Eravamo noi, era quella di Michael Jackson. Prima che si spiaccasse. Quando hanno rifatto la casa, l'abbiamo comprata a un prezzaccio. Era la sua e quella di Madonna. Lui è quella di Madonna, io quella di Michael. Per concludere, dopo l'esibizione, a chi inviereste, anzi a chi volete inviare il primo messaggio, il primo WhatsApp? Io di solito chiamo, no, io chiamo direttamente mia moglie per sapere le intenzioni. Io chiamo sicuramente... Con figli? No, sì, prima chiamerò Diana. Chiama a me. Che mi risponderà, ma chiamo Diana perché so semplicemente che se chiamo mio figlio o qualcuno dei miei figli non mi risponde. Quindi a mia figlia manderò un messaggio. Io gli ho detto, quando scendi dal palco, chiamami. Eh sì. Io chiamo, Filippo, come andrà? Ma se volete chiamare anche noi di Radio Bruno, noi ci siamo, siamo sempre qua, chiamatevi, diciamo. C'è tutta la fila, magari non sarete i primi, però insomma. Passiamo di qua, dai, va bene. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a te Bruno. Ciao. Ciao.